Buongiorno, buongiorno. Signor Geraldo. Come sta? Bene, grazie. Mi fa piacere. Oh, buongiorno. Buongiorno. Ha un po' di tempo per noi, signora. Dipende, signor Geraldo. Se è venuto per discutere della mia proposta di acquisto dell'appartamento qui al piano di sopra, le ho mandato una proposta, ma lei non mi ha mai risposto, ma so che lei è una persona molto occupata, certo. È per questo che è venuto? Noi siamo venuti per parlare con lei, signore. Una bella chiacchierata guardandosi dritto negli occhi è la cosa migliore. Siamo venuti a parlare con lei perché abbiamo una controproposta. Ottimo. Sull'appartamento al piano di sopra? No, riguardo a quel discorso che avevamo fatto in precedenza, sul fatto di acquistare il suo appartamento. Vuol dire di acquistare questo appartamento. Esatto. Oh, ma non lo vendo, signor Geraldo, lei lo sa benissimo. Donna Carla, la nostra è una proposta. Donna Clara. Donna Clara. Dov'eri finita? Ero di sotto a pulire.